Prestito di 30.000 euro interrogazione del consigliere comunale di minoranza Marco Conti che sostiene che il comune di Sestri Levante è in difficoltà economica. Comprano Smart TV denunciati in tre, hanno pagato con un assegno bancario che al momento dell'incasso è risultato scoperto di fondi e protestato. Il comune di Sestri Levante occupa abusivamente un caravan denunciato. I carabinieri di Pieve Ligora hanno fermato un francese di 26 anni residente a Marsiglia. Buonasera dal TG Tiguglio. Il comune di Sestri Levante è in difficoltà economica. A dirlo o meglio a chiederlo il consigliere di minoranza Marco Conti con una interrogazione. Il consigliere comunale di minoranza del gruppo Riprenditi Sestri, Sestri Popolare Marco Conti ha presentato un'interrogazione. Motivo? Il comune di Sestri Levante ha acceso un prestito di 30.000 euro per lavori di spostamento di un'uscita di sicurezza del Parc Sant'Anna. Secondo Conti rappresenta un chiaro segnale di difficoltà finanziaria dell'ente e sottolinea il prestito da 60.000 euro acceso alcuni mesi fa per l'illuminazione pubblica a San Bernardo. In campagna elettorale il candidato sindaco del centro-destra Gian Paolo Benedetti aveva lanciato l'allarme sulla presunta situazione finanziaria del comune. Oggi quelle preoccupazioni sono confermate, sostiene Conti, che chiede all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Valentino Aghio, di spiegare il prestito per una spesa che rientra nella manutenzione conservativa e migliorativa e che quindi dovrebbe essere finanziata con risorse comunali. Lasciamo adesso se si è avanti la politica per parlare di cronaca e parliamo di un fatto accaduto a Rapallo perché hanno acquistato due smart tv presso un negozio di Rapallo e hanno pagato con un assegno bancario che al momento dell'incasso il risultato scoperto di fondi è protestato. Per questo motivo tre persone, tutte con pregiudizi di polizia, sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure. E ora voltiamo pagina, parliamo di trasporti, quella di oggi o meglio stamattina è stata una giornata difficile per i pendolari che dovevano recarsi a Genova per motivi di lavoro o studio. Ci sono stati diversi disagi, vediamo di capire il motivo. Per i pendolari del Levante che dovevano dirigersi a Genova per lavoro o studio, quella di oggi è stata una difficile mattinata. A causa di un guasso sulla linea di alimentazione elettrica nell'immediato spezzino tra Framura e Deva Marina è andata in tilt la circolazione ferroviaria in tutto il Tiguglio e Golfo Paradiso. Il treno 1-1-362 che dalla Spezia è partito alle 5.08 diretta a Savona con transito nel Tiguglio tra le 6 e le 6 e mezza è stato soppresso. Altri convogli, sempre questa mattina, hanno fatto registrare ritardi superiori all'ora. Ancora cronaca perché i carabinieri di Pieve Ligure hanno deferito in stato di libertà un 26enne cittadino francese residente a Marsiglia, il quale già da parecchie settimane si era introdotto abusivamente mediante effrazione all'interno di un caravan in un campeggio a Bogliasco, occupandolo fino all'arrivo dei militari e rubando nel frattempo diversi generi alimentari e altri beni. Andiamo a Rappallo per parlare di Natale, manca ancora un paio di mesi appunto alla festività, però quest'anno il Christmas Village lascia il lungomare per spostarsi in centro città. Niente Christmas Village sul lungomare a Rappallo quest'anno. Non è una sorpresa, la cosa era già prevista. Delle 40 casette però ci saranno centinaia di negozi addobbati come casette sparse in tutte le vie commerciali per dar modo a tutti i visitatori del castello di trovare la stessa atmosfera nelle vie della città. Quest'anno il Christmas Village si sposta in città, affermato il presidente del CIV. Ci vediamo a Rappallo, Ornello Attraverso. L'invito dunque rivolto a tutti i commercianti sarà quello di ricreare all'ingresso delle proprie attività commerciali l'atmosfera delle tradizionali casette con legno, luci e decorazioni. Andiamo a Rappallo perché, anzi a Lavagna, lasciamo a Rappallo, c'è un potenziale pericolo per la pubblica incolumità a causa del rischio di caduta sulla parte pedonale di piazza alla scafa. Per questo motivo la Commissione straordinaria che amministra il Comune di Lavagna ha approvato il progetto preliminare definitivo relativo ai lavori di risanamento del vano scale. I lavori, secondo quanto riferisce Palazzo Franzonia, monteranno a circa 17 mila euro. Tale vano scale, lato ponente, si trova attualmente in un cattivo stato di manutenzione. La struttura infatti presenta diverse parti ammalorate di calcestruzzo e ferri d'armatura. E da Lavagna ci spostiamo poco distante, andiamo a San Salvatore di Cogorno perché il villaggio del ragazzo offre quattro nuovi corsi da estetista. Quattro nuovi corsi di formazione professionale nell'area benessere promossi dal villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. Questi i corsi previsti. percorso integrativo per allievi con qualifica triennale di operatore del benessere, corso biennale per il conseguimento della qualifica di estetista, corso di specializzazione per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, corso di formazione teorica per del conseguimento della qualificazione di estetista, per informazioni, costi e iscrizioni dei corsi ci si può rivolgere direttamente al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno da lunedì al giovedì dalle 8 a mezzogiorno e dalle 13 alle 17 e il venerdì dalle 8 a mezzogiorno. Sono iniziati invece a Santa Margherita Ligoro alcuni interventi di manutenzione del verde pubblico riguardano interventi di potatura o abbattimento su tutto il lungomare da via Gramsci a via Milite Ignoto nel quartiere degli Olivi a Villa Durazzo nel parco giochi al palazzetto dello sport di via della salute ma anche nel parco di Villa Camagnola in piazza Mazzini nell'area verde dell'ex ospedale nel cimitero urbano e in piazza San Murialdo e via Roccatagliata. Interventi con fitofarmaci e di dendrochirurgia sono poi previsti per le palme del lungomare. I lavori sono stati affidati alla ditta Pozzo di Reco per una spesa di circa 37 mila euro. Ora il calcio non gioca in campionato partito ufficiale da circa un mese per questo la Virtus Centella è costretta a giocare in amichevole contro un'altra squadra fantasma la Viterbese. Intanto dalla Lega di Serie C fanno sapere che dal 28 ottobre i biancocelesi potrebbero tornare a giocare Serie B permettendo. In attesa di sapere se sarà Serie B o Serie C la Virtus Centella affronterà in amichevole in trasferta il Viterbo sabato prossimo alle ore 15. Le due società da un mese non giocano una partita ufficiale. I biancocelesi come noto sperano ancora nella riammissione in cadetteria come da decisione del collegio di garanzia del CONI a lei favorevole ma anche la Viterbese che vorrebbe essere inserita in Serie C nel caso in cui i chiavaresi venissero riammessi in Serie B. Intanto però la Serie C fa sapere che all'esito della Camera di Consiglio del Tar del Lazio del 23 ottobre fisserà le gare in attesa di programmazione relativamente sia alla Virtus Centella che alla Viterbese a partire dalla giornata di campionato del 28 ottobre sempre che la Virtus Centella non venga riammessa in Serie B. L'Avvocato Antonio Segalerba, Presidente del Consiglio Comunale di Chiavari e segretario del Movimento Avanti Chiavari, in questi giorni, diciamo così, sulle pagine dei giornali per il titolo Querele. Chi querela chi? Questa vicenda parte dall'ex sindaco Roberto Levaggi che intende querelare l'Avvocato Segalerba per alcune dichiarazioni. Quali sono le dichiarazioni che le vengono contestate? Io ho firmato come segretario di Avanti Chiavari un post su Facebook, sul nostro sito Avanti Chiavari di Facebook, in cui dicevo che il PUC approvato dall'amministrazione Levaggi prevede migliaia di metri cubi di residenze e di incubatori o comunque attività produttive. Ho verificato nuovamente, prima di ribadire ad oggi in questa trasmissione le misure esatte che prevede il piano regolatore, in effetti sono 44.000 metri cubi, se si va a contare un'altezza media di 3 metri. In pratica abbiamo, scusate se leggo sul telefono, ma abbiamo 18.900 metri cubi di attività produttive e 25.500 metri cubi di residenza, oltre ad attività congressuali. Quindi questa affermazione che io ho fatto all'interno del sito Avanti Chiavari è coerente con quello che il PUC approvato da Levaggi. Non ho addebitato nulla di diverso a nessuno se non la verità. Quindi non capisco per quale ragione l'ex sindaco Levaggi si sia scaldato tanto da utilizzare termini quali fascisti, faccinorosi e altri termini che tutto sommato non possono essere addebitati alla nostra amministrazione, a me personalmente, al sindaco e per questo io personalmente ritengo che quelle frasi non debbano essere indirizzate al sottoscritto, che non ha nulla a che vedere col fascismo, non ha nulla a che vedere contro principi non democratici. La nostra associazione Avanti Chiavari, un'associazione democratica è quello che abbiamo voluto creare, è un gruppo di giovani che lavora e che si renda disponibile per la città per fare il meglio che possiamo. Quindi c'è proprio uno spirito di gruppo e questo è quello che noi vogliamo fare. Quindi io farò una querela personalmente, direttamente con i miei legali del mio studio, che procederanno nei confronti di Levaggi, della Colombo e della Garibaldi. Credo che il sindaco, visto comunicato, lo farà come amministrazione, quindi come comune per tutela dell'amministrazione in qualità di sindaco e poi ci potranno essere anche i singoli che se lo riterranno potranno ciascuno fare la propria querela ritenendosi o meno offesi delle parole scritte. Posto che amministrazione e opposizione, da che storia e storia anche nella Pacifica Chiavari ha sempre determinato alcuni attriti, si ha la sensazione che in questo momento sia parecchio, come dire, accesa la polemica. Secondo lei tutto questo da cosa ne deriva? Ma io credo che Levaggi e le due consiglieri abbiano sofferto troppo questa sconfitta. Davano per scontato forse di poter stare a governare questa città per tanti anni. I cittadini li hanno mandati a casa se ne facciano una ragione. Io ricordo che anche quando ho perso, ho vinto, ho perso tante volte nella storia amministrativa di Chiavari, non ho mai avuto problemi di rivolgere tranquillamente la parola e di scambiare una dialettica con l'opposizione, anche forte, perché l'opposizione deve essere forte, ma gli insulti non sono forti. La mancanza di verità anche non è forte. Se leggete il mio comunicato che è pubblico, dice cose che sono corrispondenti al PUC che è pubblicato sul sito del Comune e approvato da Levaggi. O non se lo ricorda o non so cosa ci sia da fare, quali ragioni lo spingano a scrivere cose così sopra le righe. È stato attaccato semplicemente perché ha riportato i fatti e i documenti. Durante l'ultima campagna elettorale abbiamo sempre detto che il PUC approvato dall'ex sindaco ingegnere Levaggi prevedeva circa 50.000 metri cubi di cemento, che sono circa il doppio di quanto da lui approvato a preli nei palazzi attualmente in costruzione, il doppio. Chiavri ha già pagato troppa cementificazione, tutti questi metri cubi da lui previsti non verranno realizzati finché sarò sindaco io. Per questo lui è arrabbiato. E poi caro ingegnere Levaggi, stai sereno. L'ex sindaco Vittorio Agostino, che tu citi sempre, è stato un grande sindaco, guarda al futuro, non guardare al passato, nonostante la tua età. Rispondo con la certezza di una querela nei confronti dei tre consiglieri di noi di Chiavari, il signor ingegnere Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi. È intollerabile per un sindaco di una città come Chiavari essere perenemente insultato anche personalmente e infangata tutta l'amministrazione. perché se vi vado a leggere l'ultimo comunicato, dicono che stiamo vivendo uno dei momenti più bui della vita politica di Chiavari, lo dicono loro, dove la democrazia è continuamente calpestata da amministratori prepotenti, manichei e perenemente fiancheggiati e spalleggiati da personaggi facinorosi, fascisti, conclamati e pregiudicati. Queste affermazioni lesive della mia amministrazione non sono più tollerabili. Se noi di Chiavari non è in grado di attaccare la mia amministrazione su degli atti amministrativi, deve smettere di insultarlo. Per questo, per la prima volta nella mia vita, farò ricorso alle vie legali. Stefano Salvetti, presidente di Adiconsum Liguria, è colui che si occuperà della sede di Adiconsum qui a Chiavari presso la CIS da venerdì prossimo dalle 15 alle 18. Un lavoro quello che lo attende di, diciamo così, compensazione con tutta un'attività che lei già fa. Sì, c'è la necessità di dare continuità allo sportello importante qui di Chiavari che lavora da anni. Quindi il segnale che vogliamo dare oggi è proprio questo, che andando via a chi c'era prima responsabile non si via che si chiude. Quindi il lavoro sarà continuo come prima, anzi io spero di implementarlo da questo punto di vista. È chiaro che dovremmo far crescere poi sul posto una persona perché la materia è a 360 gradi e quindi non si studia dalla mattina alla sera. Quindi bisogna persone che mi affiancheranno. Io sono sempre poi disponibile dalla mia sede centrale di Genova in qualsiasi momento anche a interloquire telefonicamente via internet telefonicamente con le persone per vedere se uno durante la settimana ha un'urgenza, considerate che siamo ora il venerdì sperando poi di riportare l'orario pieno, quindi c'è il canale diretto. Ecco, diciamo che tutto questo avviene in funzione di un effetto mediatico piuttosto forte. Com'è la situazione dei diamanti e della trattativa? Beh, la trattativa è importante questo. Noi definiamo le 112 perché dobbiamo presentare dei fascicoli con tutti i dati precisi e grafici, codici fiscali, che anche tramite la collaborazione del nostro avvocato... Ecco, diciamo che 112 sono le persone che si sono rivolte qui a Chiavari ad Adi Consum, ma si valuta un numero molto più consistente. Esatto, sono tanti, ora il numero è preciso, non lo so, quindi a livello nazionale poi quando sarò giù a Roma mi diranno esattamente o riuscirò ad avere il dato preciso. Comunque, la trattativa, io penso che siamo fiduciosi perché poi la stragrande maggioranza sono persone diciamo abbastanza deboli da questo punto, quindi riusciremo senz'altro come per gli altri istituti a riavere quella possibilità di un 70%, quello che è il traguardo di fare riavere diciamo del vestimento perché sapete la pietra ha quel valore del 30% e il resto è tutto diciamo a minicoli connessi. Ecco, dicendo negli altri istituti si pone l'attenzione sul fatto che l'unico istituto a livello nazionale che non ha ancora chiuso la trattativa è il Banco Popolare di Milano. Esatto, su questo infatti c'è questa apertura, finalmente siamo riusciti perché è il nostro modello concertativo di risolvere i problemi ma penso che di fronte quindi a una situazione che è chiara, evidente, diciamo quello che è stato fatto, ci sia la volontà delle banche quindi di rimediare il primo possibile. Previsioni per domani, giovedì 18 ottobre, cielo generalmente poco nuvoloso in mattinata per transiti di sottili velature, locali addensamenti più consistenti alle quote medio-basse lungo i versanti padani dell'Appennino, dal pomeriggio sole più convinto un po' ovunque. Vento fra debole e moderato da nord e nord-est, mare poco mosso su sto costa, mosso a largo, le temperature previste sulla costa tra 15 e 23 gradi, nel lento a terra tra 9 e 21 gradi.